Verrà sistemata a breve l'area attrezzata dello skate park di Cittadella. È stato approvato il progetto esecutivo che prevede gli interventi di manutenzione della pavimentazione dell'area di Via Padre Nicolini nella frazione di Facca. Il sindaco Luca Piero Bon e la sua giunta hanno stanziatto poco più di 17 mila euro. Di questi, oltre 3 mila, sono un contributo che arriva dalla regione Veneto. Lo skate park è molto frequentato e per questo i lavori di sistemazione della pavimentazione sono necessari per garantire la sicurezza dei ragazzi che per svago e per divertimento utilizzano l'area.